Un breve video sugli ultimi aggiornamenti, come sempre ciò che risulta a me. Mi risulta che l'operazione di, scusate il termine poco elegante, ma svuotamento delle città, di evacuazione delle città, durante la tregua abbia avuto dei risultati parziali, molto parziali, perché, come era da prevedere, gli ucraini non vogliono che questo avvenga, sapendo benissimo che quando le città saranno disabitate, saranno poi, o comunque con poche persone presenti, saranno appunto prese d'assalto dalle truppe russe. E quindi gli ucraini, che sono barricati in questi teatri urbani, teatri di guerra urbani, cercano in tutti i modi di intimidire la popolazione e di impedire che essa lasci le città principali. Mi riferisco soprattutto a Kiev, Mariupol, ma non solo. Per quanto riguarda lo scenario un po' più sullo sfondo, a quanto mi risulta, i rapporti fra USA e Israele non sono più ottimi come un tempo e come sono sempre stati tradizionalmente. Attenzione, non significa che USA e Israele hanno rotto i rapporti e che sono l'una contro l'altra in campi separati e divisi e contrapposti. Assolutamente no. Però c'è qualche frizione, c'è qualche screzio. Israele, come sapete, poi proprio per la sua posizione geografica in cui si trova, da sola e sarebbe un paese morto e quindi ha bisogno della sponda della Russia. E questo spiegherebbe anche la visita proprio di sabato del religiosissimo Bennett, primo ministro a Mosca. Bennett probabilmente ha in mano Zelensky o comunque sa dove si trova e comunque ha un'arma che si chiama Mossad, efficientissima, per cui se il Mossad ti dà la caccia potete essere sicuri che vi trovano. Il Mossad va e trova chi deve trovare. E quindi diciamo che l'Israele potrebbe o avere già Zelensky in mano o aiutare Putin e la Russia a rintracciarlo, a trovarlo. Una volta che è rintracciato ovviamente è anche preso. Questo potrebbe essere una chiave di lettura della visita che appunto ieri Bennett ha fatto improvvisamente a Mosca. Tra l'altro un fatto interessante è che Bennett, primo ministro israeliano che ha sostituito da non moltissimi mesi Netanyahu, non vuole fare sanzioni alla Russia. Attenzione a questo particolare che si è confermato è importante e non vorrebbe sanzionare economicamente la Russia. Tutto da confermare naturalmente, ma anche nei giorni prossimi. Naturalmente aiutatemi voi. guardiamo se effettivamente questa cosa si realizza, se Israele farà o non farà delle sanzioni alla Russia e in che misura, perché magari potrebbero esserci sanzioni ma formali e di poco peso. Questo per quanto riguarda lo scenario ucraino. Qualcuno mi chiede due notizie sul Canada. Dico cose che probabilmente saprete già, ma comunque parliamone brevemente. È chiaro che l'attenzione è andata tutta sull'Ucraina, si è spostata tutta sull'Ucraina, probabilmente non a caso, ma questa cosa era proprio voluta, e quindi si parla fatalmente meno, molto meno del Canada. Nel Canada risulta che Trudeau ha rinunciato allo stato di allerta, che era già stato votato ed approvato in uno dei rami del Parlamento. quando era in corso la discussione e l'approvazione nel secondo ramo del Parlamento canadese, grossomodo, diciamola così, e invece lo stesso Trudeau ha detto no, mi fermo, rinunciamo a questa cosa. Questo è lo stato dell'arte. Presto spero di sapervi dare anche qualche informazione di più e soprattutto più fresca per quanto riguarda appunto la situazione canadese, che comunque è degna di nota, che comunque andrebbe sempre seguita, mentre appunto fatalmente tutti andiamo a guardare solo ed esclusivamente l'Ucraina. Questi sono i due scenari più importanti al momento e andrebbero, diciamo, osservati tutti e due il più possibile. Detto questo, non ho altro da segnalarvi al momento, per cui vi ringrazio dell'attenzione e vi ricordo il mio canale YouTube, Giorgio Riccardin, poi c'è il canale Muletto, Giorgio Riccardin2, c'è il profilo SharkTube, nonché il canale Telegram, ma solo cose che sapete. Vi permetto di ricordarvi ancora che comunque il like aiuta e rende più visibili i miei contenuti e quindi se avete piacere iscrivetevi ai miei canali se avete piacere e se volete farlo. Grazie a tutti e alla prossima videopillolina.